Una delle novità di Modest 815 è la possibilità di definire nella fase di progettazione interattiva delle solette e delle platee i punti di verifica. Infatti questo ci permette di andare a modificare quelli che sono i punti di verifica scelti autonomamente da Modest. Lo strumento di modifica lo troviamo nella scheda della progettazione interattiva delle solette e delle platee e mi dà appunto la possibilità di scegliere tra tutti i nodi costituenti la mesh della soletta e della platea quali punti di verifica andare a considerare. La scelta che abbiamo è quella di andare a effettuare in questi nodi la verifica solo se strettamente necessario in funzione delle sollecitazioni in gioco di verificare sempre questi punti ma soprattutto mi dà la possibilità di escludere determinati punti della mesh dalle verifiche. Questa funzionalità che tra l'altro è stata richiesta da molti utenti è molto funzionale per andare a non considerare tutte quelle sollecitazioni anomale che nascono nell'intorno di punti singolari dovuti fondamentalmente alla modellazione unifilare del modello stesso. In questo modo quindi si potranno escludere dalle verifiche tutti quei picchi di tensione soprattutto riguardanti le verifiche a taglio che causavano l'insorgere di problematiche nella fase di progettazione e verifica di questi elementi.